Divulgare la cultura dello sport e dell'attività fisica nell'ambito della crescita e della formazione di una persona, questo è il principale obiettivo del nuovo Parco dello Sport a San Termente, un progetto per il quale è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Sant'Arcangelo e la Fondazione Giuseppe Berardi ETS, annunciata in una conferenza stampa alla Biblioteca Baldini di Via Pascoli. Il nuovo parco fungerà anche da volano per la crescita della collettività, prendendo il posto di un ex cava di messa da anni su un terreno di 23 ettari che ospiterà in larga maggioranza un bike park con una pista asfaltata a senso unico di marcia di 2 km, un edificio polifunzionale riservato ad altre tre discipline sportive come pallacanestro, pallavolo e pallamano e una struttura destinata a 5 campi da paddle. Per la Federazione Ciclistica Italiana oggi è un giorno importante perché l'impiantistica è alla base di quella che è la nostra attività, è un'attività che spesso è troppo penalizzata dal traffico sulle strade per cui la sicurezza è importante e fondamentale, per cui noi siamo grati alle amministrazioni locali che sono sensibili a questa tematica. Intanto l'idea della Fondazione Berardi è quella di creare cultura sportiva, in questo paese è necessario indirizzare i giovani verso l'attività sportiva perché purtroppo c'è un livello di sedentarietà altissimo amplificato dal problema del Covid dopo due anni di totale inattività. La formazione sportiva ovviamente ha necessità di impianti, ha necessità di formazione per tutti coloro i quali operano nell'ambito dello sport giovanile e il nostro target sono i ragazzi prima di tutto perché riuscire a portare i ragazzi allo sport significa che riuscire a portarli alla vita.